ciao ciao il rumore si rivede ma è vero che sei matto che ti ho detto la maestra questo è manicomio ordi che sei matto ma ma che ne sa la maestra questo non è mica un manicomio è un condominio noi stiamo al condominio entriamo usciamo andiamo a giocare a pallone famo come ci pare quanto sei deficiente questo è un condominio di santi siamo santi stiamo qua dentro i santi mica vanno a giocare a pallone e che fate per essere santi fammi miracoli io pure faccio i miracoli c'è un cappello che ci tiro fuori in coniglio e una bacchetta che ammazzo dei fiori non è in giro queste cose tutti capiscono quanto sei deficiente quelle sono magie i miracoli sono resuscitare i morti e fammi vedere come resusciti i morti la deficiente che aspetti mo la voglio proprio vedere sto miracolo non è in giro Ma l'ha ammazzata e ma l'ha risuscita. Mi risusciti, ormai è morta. L'ha risuscitata, allora è vero, sei santo. Mi sa che si mangia. Ma forse è carnivora. Sì, si mangia a sarticci.